È una vittoria bella perché comunque non era facile, lo sapevo, non abbiamo iniziato benissimo, c'è un'atmosfera strana, tanto silenzio, insomma, uno stadio semi vuoto, i nostri tifosi si sentivano, però è un'atmosfera particolare per quando vai a giocare fuori casa. Abbiamo concesso qualche duello e qualche seconda palla che di solito non concediamo e abbiamo permesso all'avversario di andare in vantaggio meritatamente all'inizio perché comunque avevano creato i presupposti per fare gol. Però siamo stati bravi a non lasciare la gara, a rimanerci dentro, a mettere mattoncino su mattoncino, a recuperarla, andare in vantaggio. A fine prima tempo abbiamo avuto l'opportunità per allungare, non ci siamo riusciti e poi nella ripresa siamo stati bravi a tenerla e ad allungare il momento giusto. Bisogna rifarle le cose, non basta farle, perché ora questa l'abbiamo fatta, ma questa si mette da parte, si recupera e da martedì si riparte perché ci aspetta un'altra sfida difficilissima. Però come dico sempre, le qualità per fare le prestazioni importanti le abbiamo e proveremo a rifarle anche domenica.